Auto del Calcit incendiata al Pionta è il secondo episodio nell'arco di due settimane e ora il fenomeno diventa preoccupante. Dopo le due auto incendiate circa due settimane fa è stata presa di mira da questo o questi piromani una Fiat 600 di proprietà del Calcit ed in particolare la prima auto utilizzata per il servizio scudo. La zona è quella retrostante al centro oncologico Aretino. L'atto vandalico non sarebbe riconducibile al comitato Aretino perché l'auto non portava alcun segno o adesivo di riconoscimento. Dispiace perché fra l'altro questa è una macchina donata dal Calcit e quindi dalla popolazione Aretina è una macchina che a noi serve. Serve per il servizio che facciamo tutti i giorni. Ora siamo rimasti con tre macchine, ogni tanto ci vuole quattro macchine perché siamo tre infermieri che stanno facendo turno mattino, più medico, allora ora siamo rimasti senza una macchina di quale abbiamo bisogno. È stata sporta denuncia e ora gli inquirenti stanno cercando di risalire ai responsabili o al responsabile di questo ulteriore atto in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista della sicurezza. Sì, io mi sento abbastanza sicuro. Certamente attraversare l'area dell'ex ospedale psichiatrico la sera dopo le otto si vede della gente strana. Io non so quale altro aggettivo usare. Poter aggiungere telecamere nei punti che abbiamo visto, ahimè, sensibili, magari potrebbe aiutare come deterrente. Mi auguro che, diciamo così, questo atto vandalico, ripeto, non abbia ripetersi particolarmente nei confronti di chi il mezzo l'adopera veramente per aiutare gli altri. Mi auguro altresì che la sensibilità e la solidarietà degli aretini sia tale che, quanto prima, con i loro contributi, possano dare l'opportunità ai nostri validi infermieri, medici, dottor Maurizzi che guida l'equipia, di recuperare un mezzo per le loro giornaliere necessità.